Ciao a tutti gli appassionati di gossip e benvenuti su Gossip News Ita, il vostro canale preferito per rimanere sempre aggiornati sulle ultime succulente notizie dello showbiz. Prima di immergerci nei dettagli di questa piccante chereltra Fedez, Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale, lasciare un bel like e condividere le vostre opinioni nei commenti. Vogliamo sentire cosa pensate di questa storia bollente? Oggi vi raccontiamo una vicenda legale che sta facendo impazzire il web. Fedez è pronto a difendere la sua reputazione e ha messo Selvaggia Lucarelli sotto i riflettori con una querela per difamazione aggravata. Ma questa storia ha delle sfumature inaspettate, soprattutto quando la giornalista decide di schierarsi dalla parte di Luis Sal, noto youtuber coinvolto in una recente rottura professionale con il rapper. Lucarelli non risparmia critiche, definendo Fedez una falena in cerca costante di luce mediatica. E ora, vi chiedo di esprimere le vostre opinioni nei commenti qui sotto, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e di lasciare un grande like a questo video se state apprezzando il contenuto. Vogliamo sapere cosa ne pensate. Grazie mille a tutti voi che ci seguite su Gossip e News Ita. Continuate a sostenere il canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento e, come sempre, vi ringraziamo per essere la nostra fantastica community di appassionati di gossip. Ci vediamo alla prossima puntata.